Musica Una buona serata e ben ritrovati. Il mondo dell'impresa tra eredità da valorizzare, sfide future e visioni. Facciamo la nostra consueta intervista di metà anno in compagnia del Presidente di Confartigianato Imprese Prato, Luca Giusti. Buonasera e ben ritrovato. Buonasera, buonasera a te Giulia, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque Presidente, partiamo da un importante riconoscimento che come associazione consegnerete la prossima settimana a tre imprese eccellenti del nostro territorio, Tradizione, Innovazione e Sostenibilità, ai tre principi cardine che muovono questo premio, che vuole valorizzare l'impegno e la tenacia delle aziende in un momento certamente sì di crescita ma non facile. Assolutamente, è un momento particolare per la nostra associazione ma anche per tutti i nostri associati. Un momento in cui andiamo a valorizzare quelle imprese che meglio hanno interpretato i cambiamenti che sono in corso. Durante quella serata ovviamente non ci sarà soltanto la premiazione e il riconoscimento del valore di queste imprese ma ci sarà anche un importante dibattito su un tema fondamentale, essenziale, che riguarda i distretti e le filiere. Due elementi che spesso in passato, in più riprese, erano stati dati per minoritari e soprattutto meno importanti se non addirittura ormai inutili. Invece mai come oggi l'importanza del distretto e l'importanza della filiera sta assumendo un valore fondamentale per poter continuare a essere coloro che si pongono non soltanto sul territorio nazionale ma anche nel mondo i principali sostenitori della qualità, dell'innovazione e del Made in Italy che tanto ha portato in giro per il mondo per valorizzare le nostre imprese. Ricordiamo l'appuntamento il prossimo 12 luglio al Giardino Banci Buonamici in orario diciamo 18.30 fino a sera con tanti ospiti per parlare proprio di distretti, di sfide e di criticità anche che insistono sul nostro territorio. Elementi sì di criticità ma anche di grande positività. Non è un caso se a parlare quella sera saranno veramente un economista di primo livello come è appunto il professor Poma ma anche il nostro presidente nazionale Marco Granelli. Temi importantissimi che riscontrano oggi un interesse particolare non soltanto nel settore manifatturiero che è uno dei settori trainanti dell'economia. Vorrei ricordare che nel 2022 l'Italia si è posta veramente come locomotiva in quello che è stato il processo produttivo e la capacità produttiva in Europa. Quindi grande importanza al tessuto economico italiano, grande importanza al tessuto economico manifatturiero e non solo. Ecco, noi in quella serata affronteremo le varie tematiche e le varie problematiche. Proseguiamo nel 2023 con un trend positivo per quanto concerne la forza delle nostre imprese di porsi sui mercati ovviamente nazionali e internazionali. Riscontriamo però nello stesso contempo grandi difficoltà per esempio nella reperibilità di figure importanti e soprattutto di figure che riguardano settori trasversali, non settori specifici. C'è un grande cambiamento nel mondo del lavoro, c'è una grande veramente evoluzione nel modo di rapportarsi tra coloro che si approcciano al mondo del lavoro e le imprese. Ecco, questo tema credo che sia un tema fondamentale e importante da andare a conoscere in maniera più profonda e accurata proprio per evitare un qualcosa che potrebbe peggiorare una situazione appunto nel rapporto fra datori di lavoro e collaboratori. Noi di questo parleremo, parleremo anche di aspetti legati soprattutto a quello che è il processo produttivo nelle filiere e nei distretti con i loro vantaggi e con quello che comporta farne parte. Ricollego quindi ad un suo spunto, mancano giovani, manca personale, che cosa si rischia di vedere nel medio-lungo periodo all'interno del distretto manifatturiero della nostra città? Cosa rischia di accadere? Uno dei rischi maggiori a cui stiamo andando incontro è l'interruzione della filiera e cioè andare a interrompere quel ciclo produttivo che tanto bene ha fatto al nostro distretto e che tanto ha portato sia da un punto di vista di economia locale e anche di economia in generale nella costituzione di filiere produttive. Non sono elementi banali quelli delle filiere perché è difficilissimo pensare di ricostituire una filiera interrotta forse in più punti semplicemente rifacendo partire aziende che oggi sono destinate a chiudere per difficoltà anche di reperimento di mano d'opera. Questo è un elemento importantissimo che necessita non soltanto dell'attenzione della politica locale ma anche di quella nazionale. Mancano figure che ricoprono determinati ruoli nel ciclo produttivo. È impensabile non pensare di provvedere a una normativa, a una legislazione, a un qualcosa che permetta l'accesso a questo mondo di lavoro da figure che provengono da altri paesi. Questo vuol dire andare a regolamentare in maniera migliore, più compiuta e più idonea l'accesso di figure che possono sopperire a quella mancanza e a quella carenza che oggi abbiamo. Purtroppo la stessa natalità non ci aiuta in questo caso. Noi siamo una nazione che sta invecchiando. Ci mancano i giovani, ci mancano le nuove forze di lavoro. Dobbiamo provvedere, e questo credo sia un compito fondamentale per chi è oggi alla guida del governo, dobbiamo provvedere in maniera costruttiva, positiva e non in maniera strumentale e polemica a risolvere questo tipo di problema. La pandemia ha segnato una sorta di spartiacque, anche per quel che riguarda il tema del lavoro e la percezione del lavoro. Serve in qualche modo un ritorno ad una responsabilità da parte dei giovani e anche un cambio culturale, un cambio di passo? La pandemia ha caratterizzato molto della vita che si è svolta in questi ultimi due anni, ultimi due, tre anni, soprattutto nel periodo del clou della pandemia. Perché l'ha caratterizzata? Perché ha, tra virgolette, costretto le persone ad affrontare il tema anche del lavoro in maniera diversa e modalità diversa. Questo ha portato, sotto tanti punti e sotto tanti aspetti, a un cambiamento d'approccio da parte di chi lavora nella risposta da dare all'ambiente in cui lavora, andando a cercare cose diverse e dando priorità a cose diverse rispetto a prima della pandemia. Faccio un esempio molto semplice. Oggi tantissime persone, ricordo che nel 2022 in Toscana oltre 110.000 persone hanno lasciato volontariamente il lavoro per dedicarsi, non ovviamente al nulla facente, ma per dedicarsi a lavori con caratteristiche diverse che corrispondessero in maniera più precisa a quell'esigenza che era maturata durante la pandemia. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che oggi la priorità da parte di molti, in particolar modo di chi si approccia al mondo del lavoro per la prima volta, una preferenza nella scelta della tipologia del lavoro molto diversa rispetto al prima. Oggi i valori sono molto, molto diversi. Non è più importante solo e soltanto lo stipendio, non è più importante solo e soltanto la prospettiva di carriera, ma è molto più importante per alcune figure, purtroppo per la maggior parte delle figure, avere posti di lavoro di più semplice gestione, che danno più disponibilità di tempo, che danno meno responsabilità e che quindi siano, tra virgolette, più semplici e più facili da fare. Questo crea un grosso problema. Noi siamo, nella nostra nazione, nel nostro distretto, una realtà manifatturiera. Manifatturiera di per sé vuol dire lavorare con le mani, vuol dire lavorare non solo le mani, anche con la testa sicuramente, ma vuol dire comunque impegnarsi in attività e in lavori che richiedono anche una forte responsabilità e una consapevolezza del lavoro che viene svolto. Una consapevolezza che spesso non può terminare alle 5 del pomeriggio, alle 6 del pomeriggio, non può terminare spesso soltanto il venerdì sera con i termini dell'orario normale di lavoro, ma che porta dietro una responsabilità anche nei periodi e nei momenti in cui uno a volte non è presente sul posto di lavoro. Ecco, questo lo stiamo un po' perdendo. Questo era un elemento che aveva caratterizzato il nostro distretto, la nostra società, negli anni passati, negli anni d'oro in cui Pranto si è fatta veramente riconoscere nel mondo per la sua capacità produttiva, oggi lo stiamo perdendo e questo credo che debba essere un elemento di riflessione. Non entro in merito se è giusto o sbagliato, io dico semplicemente che sta cambiando il rapporto di lavoro, sta cambiando la mentalità dell'approccio al mondo del lavoro, questo deve essere un elemento di forte riflessione. Sfide dei distretti, ne parlavamo all'inizio a proposito delle riflessioni previste nell'evento della prossima settimana, sono tante quelle che attendono sempre gli imprenditori, in cima all'agenda delle esigenze c'è però il tema infrastrutturale, c'è una carenza di infrastrutture che caratterizzano anche il nostro territorio e che rendono difficile la vita produttiva dei nostri imprenditori. Cosa chiedete, cosa manca? I risultati economici del 2022, ma già anche quelli del primo semestre del 2023, evidenziano come le imprese siano state capaci di adeguarsi ai cambiamenti, di rimettersi in gioco, di essere capaci di proporre sui mercati prodotti che trovano ovviamente gradimento, perché appunto la crescita è stata notevole, lo ripeto siamo stati locomotiva dell'Europa per tutto il 2022 e lo siamo ancora per questa prima parte del 2023. Questo cosa significa? Significa che le imprese hanno la capacità di adattarsi e di andare a individuare le necessità per poter essere performanti nel mondo del lavoro. Che cosa ci manca? Ci manca forse un supporto maggiore da parte di coloro che dovrebbero creare il terreno, l'humus, perché questo possa svilupparsi in maniera ancora più forte e soprattutto possa stabilizzarsi. E qui torniamo al problema delle infrastrutture. È impensabile oggi che per trasferirsi e per fare 10-15 km si debba volere un'ora e mezzo di tempo per fare tratti veramente a volte risibili. Parliamo della 325 che è un dramma continuo e che purtroppo ha visto anche delle difficoltà nell'andare a portare soccorso a delle persone. Parliamo dell'approccio per esempio alla città di Firenze, all'aeroporto. Facciamo tanta discussione per l'ampliamento dell'aeroporto ma ancora non è stata trovata una soluzione per arrivare all'aeroporto, per arrivare al centro di Firenze, per arrivare negli spazi industriali e commerciali. Abbiamo il problema di un Ponte Lama che dovrebbe essere raddoppiato ma che ancora è fermo. Abbiamo il problema della terza corsia su quella che riguarda l'autostrada che fa da anello intorno a Firenze e che congiunge tutta l'attività tra Firenze, Prato e Pistoia. Allora l'appello che noi facciamo è che le imprese ci sono, le imprese stanno dando il loro massimo contributo, chiediamo che anche la politica faccia la sua parte, dateci la possibilità di consolidare questo trend che con grande fatica abbiamo oggi realizzato perché senza le infrastrutture necessarie, senza questo che è la base di qualsiasi principio di sviluppo, credo che sarà molto difficile continuare a poter operare con questi livelli e questi ritmi. In tutto questo Confartigianato continua a fare la propria parte in modo attivo con vari interlocutori, con tutti gli attori del territorio cercando di perseguire la strada della concertazione e di animare anche il dibattito pubblico. Non servono voi dite azioni spot ma sinergie concrete che possano anche nel lungo periodo dare delle risposte strutturali e non temporanee? Oggi la funzione dell'associazione è molto diversa rispetto a quella che è stata nei decenni passati. Perché è diversa? Perché il mondo è cambiato ed è cambiato molto velocemente e con il mondo che cambia sono cambiate le esigenze delle imprese. Oggi le imprese hanno necessità di specialisti capaci di rispondere a quei problemi che ogni giorno vengono fuori per le nuove normative, per il nuovo modo di produrre, per quello che riguarda tutta la regolamentazione che serve per poter svolgere un'attività. Confartigianato è vicino alle imprese ed è in grado di rispondere non soltanto a tutte le esigenze ma di porre sul piatto quelli che sono e che saranno in futuro le cose essenziali da fare per un'impresa per poter avere successo. Da questo punto di vista cito semplicemente il bonus del 110 con tutte le sue complicazioni che dramma sarebbe stato senza aver avuto il supporto, se non ci fosse stato il supporto di un'associazione capace di rispondere a queste problematiche e di essere interlocutore presso coloro che fanno le norme, che decidono le regole. Noi poniamo sul piatto questo tipo di considerazione. Impossibile oggi lavorare da soli. Oggi un'associazione deve essere a stretto contatto con i suoi associati ma allo stesso tempo deve essere a stretto contatto con tutte le istituzioni, con tutti coloro che operano sul settore che riguarda ovviamente il territorio e non soltanto il territorio locale ma anche quello regionale e nazionale. Grazie per queste riflessioni condivise al Presidente Luca Giusti e buon lavoro ovviamente. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e arrivederci alla prossima occasione. Grazie a voi, grazie a voi.